Le diete vegetariane potenziano i benefici cardiometabolici in maniera addittiva alla terapia farmacologica. Questi sono i risultati di un nuovo studio del mio gruppo di ricerca. È una meta-analisi di 20 trial clinici randomizzati che hanno coinvolto 1878 pazienti con rischio cardiovascolare elevato o addirittura già con malattia cardiaca. Questi risultati indicano che l'adozione di una dieta vegetariana, quella che viene chiamata plant-based diet, causa un miglioramento significativo del profilo cardiometabolico in maniera addittiva, come ho già detto, alla terapia farmacologica, ai farmaci che già prendevano per il colesterolo alto, per la pressione, per il diabete. Questi miglioramenti in soldoni, quelli più importanti di questo studio, comprendono un'ulteriore riduzione media del colesterolo LDL, del colesterolo cattivo, di 6,8 mg decilitro, una diminuzione dell'emoglobina glicata dello 0,25% e un calo ponderale medio di 3,4 kg. Questi risultati quindi dimostrano che l'adozione di una dieta vegetariana fornisce un beneficio aggiuntivo alla terapia dei pazienti che sono già appunto in trattamento farmacologico per patologie cardiache, contribuendo in modo modesto ma significativo alla riduzione del rischio. Questa ricerca quindi sottolinea ulteriormente il ruolo protettivo e sinergico della dieta, in particolare di una dieta prevalentemente a base vegetale, quindi cereali integrali, legumi, verdure di ogni tipo, frutta secca, noci, semi, nella prevenzione primaria e secondaria, appunto di questo studio secondaria, delle malattie cardiovascolari. Tuttavia è importante notare che esistono appunto diversi varianti di diete vegetariane, no? Quando si parla di diete vegetariana c'è un grande spettro di varianti. Esiste la lato vegetariana in cui sono consentiti i latticini e le uova, esistono le diete vegane che escludono tutti i prodotti di origine animale e poi esistono le pesco vegetariane che includono il pesce. La scelta di una dieta vegetariana adeguata e ben equilibrata può portare quindi a numerosi benefici per la salute. I meccanismi sono praticamente vari, una minore assunzione di calorie vuote e grassi saturi aterogene, più bassi livelli di assunzione di L-carnitina e colina, che sono i precursori del metabolita del microbiotestinale TMO, che chiaramente ha un effetto pro-aterogeno, e una riduzione dell'assunzione di alcuni tipi di aminoacidi, solforati e a catena ramificata, che un innumerevole numero di studi dimostra essere implicati nella eziopatogenesi del diabete e dell'obesità. Quindi tutti i fattori che possono contribuire, se appunto vengono ridotte nella dieta, a migliorare la salute cardiometabolica. È chiaro che poi c'è il ruolo della fibra, di questo vi ho già parlato, la fibra vegetale che ha diversi effetti nel ridurre l'appetito, nel causare sazietà, attraverso il metabolismo del microbiotestinale, delle fibre, si producono acidi grassi a catena corta, ed è altre sostanze che riducono il rischio di diabete e di obesità e di ipercolesterolemia. Tuttavia ci tengo a sottolineare che in questo studio non abbiamo potuto distinguere tra diete vegetariane sane e diete vegetariane non sane. E questo è un punto molto molto importante, potrebbe spiegare il perché gli effetti sono significativi ma modesti. In realtà una dieta vegetariana plant-based, ben disegnata, ben equilibrata, dovrebbe avere degli effetti molto più importanti. E il problema è appunto che la composizione nutrizionale e gli effetti sulla salute delle diete vegetariane varia moltissimo. Perché una dieta ben progettata, come ho detto, dovrebbe essere ricca di fibre, steroli, acidi grassi monosaturi, omega 3, vitamine essenziali, sali minerali, oligolementi e tanti altri nutrienti essenziali che contribuiscono così agli effetti positivi osservati sulla salute cardiovascolare, non solo quella cardiovascolare. Ma come ben sapete, come ho già detto in diversi video e in una review article che abbiamo appena pubblicato sulla prestigiosa rivista cardiologica, la European Heart Journal, una delle più, la seconda più importante al mondo, non tutte le diete vegetariane sono necessariamente salutari. Anzi, alcune varianti, ahimè proprio quelle consumate da un gruppo crescente di persone che non possiedono solide basi conoscitive sul giusto rapporto di nutrienti. Conosco un sacco di persone che si approcciano alla dieta vegetariana pensando che non consumando prodotti di origine animale, questo di per sé è garanzia di salute e invece non è proprio vero per nulla perché ci sono tanti studi che dimostrano che se una persona consuma una dieta vegetariana ricca di prodotti raffinati, di pane bianco, queste focacce super raffinate, questi pane da toast, brioche, varie, dolci, 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 umi e tanti altri prodotti raffinati processati su tutte queste lasagne vegane, pizze vegane, prodotti in scatola vegani che sono ricchi di sale, di acidi grassi saturi magari ricchi di olio di cocco che è super aterogeno, di grassi parzialmente idrogenati di cui sono ricchi un sacco di questi cibi vegetariani in scatola o in busta, oppure anche ricchissimi di olio di soio, ho appena pubblicato un video di una ricerca scientifica che dimostra che l'olio di soia che è ricco di acido linoleico, quando lo si consuma in maniera eccessiva, ci vuole poco perché sia consumato in maniera eccessiva, questo questo olio di soia ha un effetto nel causare infiammazione intestinale e come dicevo queste di queste diete vegetariane diciamo non salubri che sono prevalenti purtroppo, sono anche ricche di zuccheri semplici, di fruttosio per dolcificare naturalmente, sono ricchi di conservanti, additivi, chimici e tante altre fonti di calorie vuote che sappiamo essere nocive per la salute e sicuramente compromettono i benefici attesi delle diete vegetariane aumentando il rischio di malattia e di morte precoce. Quindi ripeto attenzione il termine dieta vegetariana di per sé non significa nulla, scordatevi che dieta vegetariana significa salute. Una dieta è sana se comprende nella giusta proporzione tutti quei cibi essenziali ricchi di tutte quelle vitamine, di tutti quei sali minerali, di quei fitocomposti, di quegli oligoelementi nella giusta proporzione che promuove salute. Dunque mentre i risultati di questa analisi supportano l'efficacia delle diete vegetariane per la salute cardiometabolica anche in pazienti a rischio affetti da patologie cardiovascolari su base ischemica, è fondamentale scegliere attentamente una dieta vegetariana bilanciata e salubre e consumare una varietà di alimenti vegetali integrali minimamente processati per massimizzare i benefici per la salute metabolica e la probabilità di vivere una vita lunga, sana e felice. In una dieta vegetariana, almeno che per motivi etici, voi non vogliate consumare nessun tipo di prodotto di origine animale, consumare del pesce o del seafood, quindi mitili e delle piccolissime quantità di formaggi o di latticini a basso contenuto di grasso, meglio se vengono appunto da animali che pascolano all'aria aperta e magari delle uova di alta qualità, cioè di galline che non vivono in stabulari ammassate ma che vivono all'aria aperta, questo potrebbe avere un effetto nel complementare, nel arricchire la vostra dieta, sempre appunto che per motivi etici non siate completamente vegani, a quel punto dovete essere molto attenti ad assumere tutti quegli alimenti e quei supplementi che vi permettono di non sviluppare delle carenze vitamine che a lungo termine potrebbero causare problemi seri alla vostra salute. E con questo è tutto per oggi, io sono Luigi Fontana, direttore scientifico del Charles Perkins Center RPA Clinic dell'Università di Sydney, direttore del programma di longevità in salute, oltre che essere professore, è una clinica academic nel Royal Prince Alfred Hospital all'interno del Dipartimento di Cardiologia. Questo è il mio canale di informazione per tutti quei cittadini, mi rendo conto per quel gruppo eletto di persone che sono interessate alla verità scientifica, a capire in maniera esatta, quindi non a seguire mode basate su dati scientifici deboli o addirittura senza dati scientifici. Quindi questo è il canale della salute e della longevità. Longevity Now, Longevity Now FL. A presto!